Oggi è il 15 di luglio, vedete il cielo azzurro? In lontananza si vedono alcune nubi, chiaramente naturali, ma sono alcuni giorni, una quindicina di giorni, che non si vedono sciate nel cielo. Però in alcuni momenti si notano gli aerei che volano, anche perché sono visibili ad occhio nudo, non so quanto saranno alti, e poi il riflesso del sole li fa identificare. Però alcune cose strane che succedono è che ad un certo punto, senza aver visto prima le sciate consuete, compaiono improvvisamente dei, come si può dire, quasi come se fossero delle sciate che poi si allargano come conosciamo. Però non sono state rilasciate dagli avio, come siamo abituati a vedere. Cioè, compaiono così, dal nulla. Ora io non so se hanno cambiato strategia, se hanno cambiato tipo di prodotti che spargono sopra le nostre teste. Non lo so sinceramente. Adesso, oggi, non si vedono quelle manifestazioni di cui vi ho parlato, ma nei giorni scorsi improvvisamente comparivano queste velature che poi le correnti d'aria le spargevano, come se fossero veramente state precedentemente delle scie. Però non avevamo notato il rilascio da parte degli oggetti avio. Ora, questo bisognerebbe chiederlo magari a chi è più ferrato di me, magari uno tipo Marcianoff, che da anni ormai indaga su queste cose, perché io sinceramente non riesco a trovare la spiegazione. Qualcuno magari ne saprà più di me e magari in qualche commento proverà a farci capire. Comunque sono cose stranissime.